musica musica Jacky Gamer Tube solo qui da noi Ciao a tutti ragazzi io sono Jacky Gamer Tube e oggi siamo su The Amazing Spider-Man 2 che bello ricominciamo dato che un mio amico ci è piaciuto tanto e lo vuole rivedere vai è sempre bello stagliera quando si vede ecco qua oh dai si ho cambiato spond sono in casa mia ho cambiato spond ma vabbè questo è un dettaglio ora qui ovviamente devo sempre che campo cioè stavo dicendo devo sempre tagliare ok andrò al negozio di fumetti a vedere come se la cava stan ah ah si vabbè questa l'avevo letto così non mi ricordo i tasti ah e qui i tasti e qui i tasti ok si entra dai è volato se ne è andato ah no che si è trasformato a parker che qua mamma mia sempre parker si chiamava pitten parker non è cambiato mai nome dal primo e dall'ultimo sempre lo stesso nome che hanno cambiato il nome alla ma c'è Jane quando l'ho chiamata quella potevamo lasciarcelo anche lui peter peter oh bentornato fedelissimo cavus ormai sono secoli che non ti fai più vedere non ci sono parole mi dispiace davvero per tu zio è stato un grande uomo era il migliore grazie grazie mi ricordo che venivamo sempre qui insieme dopo i disastri che ti ho combinato qui mi sento un po' in colpa è acqua passata ormai vuoi qualcosa non so un po' di sane avventure marvel per rimetterti in moto il cuore e fumettaro no passavo da queste parti ma tornerò non dire altro quando hai bisogno di ispirazione mi trovo qui ok ti trovo qua ah si 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 che bello che bello che bello però vai mamma mia non mi interessa bellissimo vabbè praticamente qua possiamo sbloccare le cose passando al gioco credo che si sbloccano queste sono le parti dove vogliamo fare tipo c'è un livello che ci piace basta che andiamo qua e lo possiamo rifare credo che sia ah The Amazing Spider no figate ok aspetta oh oh aspettate ok hanno battuto il record hanno battuto il mio record è inaccettabile che dite lo facciamo non lo so no no andiamo a fare la missione subito dai non noi aspettate qua è difficile perché tutta mia tutta mia tutta mia su pc giocare a questo gioco è impossibile si può dire però ci provo anche perché è troppo sensibile ma delle posessioni si può fare per un meno ma noi speriamo il caricamento non due migliori di anni di anni e loro del controllare il manuto ne qua bla 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 non ci interessa non mi 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 interessa ho detto con la salsiccia in quale lingua significa coi funghi si beh e dico tipo no no e lei fa si si oh si è proprio così così eh S qui carati in che ti serve potenza di fuoco il gioco si fa duro capisci sai cosa intendo abbiamo bisogno di andarci pesante tu sei un uomo giusto piccolo dietro non sbar due ore olè andiamo oh mio dio ok ah sta muorendo ok facciamo acquistare noi ah la fionda non possiamo acquistare noi allora siete pronti? ehm allora a volte vorrei dire chi sono a Jonah Jameson anche solo per vedere che faccia farebbe come mamma mia farei ripetivo what the fuck mamma mia che figata mamma mia è sempre piaciuto spiderman mi sempre piaciuta a me come mi piacerà sempre we ammazziamoci a believe and fly ah come fai a non farti male vabbè voglio sapere solo questo iiiiiii non mi ricordi ta perchè non posso avere degli scagnozzi non ci sarebbe niente di male e mi farebbero si devi trovare solo delle altre persone che si fanno mordere come te e ora con la e mi sembra che posso fare ecco eccolo olè guarda qua ehm andiamo la si oh mio dio i lag meno male mi devo comprare il computer nuovo mamma mia la posso fare i gameplay in hd pool 3 rivoluzione che cavolo che cavolo vediamo cosa succede vediamo cosa succede avanti avanti levate levate uno stagio brutto a fare andiamo 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 mi quello già subito oh mio dio non ti permetterò non ti permetterò di uccidere ancora no no olè oh mamma mia spiderman aiutami io ti prego chiudi il becco te lo chiudo io no 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 fatta schifo oh mio dio prima c'è lo stagio vai esci da qua stronzo ciao ciao no 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 non no ma no Va bene Cosa succederà ora? Mamma mia caro E speriamo che Che non se ne va Che lo voglio uccidere A questo Oh oh Cos'è successo? Non può essere lontano Eh Oh mio dio Oh che cavolo Oh mio dio Oh mio dio 9-1-1 9-1-1 Qual è l'emergenza? Devo segnalare un cadavere Lo vogliamo Perfetta Tac Bello scatto Se mi scoprono Si mette male Più veloce Mamma mia Ok è morto Lui ma vabbè Tanto non fa niente Anzi meglio che molto Cazzi a me lo scoprirà Primo o poi Certo E voglio starle accanto Credo che lo faranno vedere in televisione Ma dai Spider-Man ha ucciso una persona Ora è incolpato del omicidio Che bello Il computer si sta scaricando Mamma figata Ok Ho finito gli appigli Hai finito gli appigli Gli appigli Oh Armati eh Olè Che la cosa bella è Olè 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 A volte mi chiedo Cosa sarebbe successo Se mi avesse morso Un porco Perché ti fai sti domando Saresti diventato Spider-Pork Vero Spider-Pork È diventato Spider-Pork È da un po' che non vado a trovare La zia me Meglio tornare all'opera E quante che stai qua Da tre anni Boh Facciamo così va Uh uh Mamma mia che figata Solo se il mio amico Potesse provare sto gioco La La dovete Vede tutti che se lo compra Quindi Che comunque lascia il link In descrizione del suo canale Che praticamente fa solo live Però fa delle live su FIFA Sui giochi che non mi piace Ma lei però va bene Fa anche Gli uncharted Tutti gli uncharted Però Ora sta facendo il primo Poi il secondo Per il terzo Poi Eccetera eccetera Facendo la sua canale Che ha tanti iscritti Guarda che ha più iscritti Merita proprio Gli iscritti Ecco Che bello Dai Oh mio addio Mi sono incastrato Tutorial Come incastrarsi Su un muro Su The Amazing Spider Dai che se ne sta andando Allora Ok Sì certo Dobbiamo andare E' la missione Qualcun scritto E' uno sbaglio 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 Questa dovrebbe essere Camera nostra Oh mamma mia Che bel computer Senza le spine E' uno sbaglio Ma vabbè Questi sono dettagli Allora Perché la televisione Deve essere così tanto Stronza Vabbè Ormai L'uomo che ha ucciso L'uomo che ha ucciso Lo zio Ben è morto Pensavo che avrei trovato Un po' di pace Ma non mi sento Ma non mi sento In pace Proprio per niente Proprio per niente Eh Eh qua ci sono I cose Che bello Che bello Ci sono i vestiti Belli Bello Eh E' bellissimo Che bello Mio Dio Mio Dio Mio i capelli Ovviamente Ma che Ma che fa Cosa ha fatto Ma Ma Voi siete vedendo Ha ballato Comunebete Bebeva Pure lui Ah metto questo No no mi piace questo Questo qua è del E' il vestito Di The Razing Spider Si può dire Il primo Il gioco La polizia Ha confermato Che c'è un serial killer Non è uno Uccide solo La sua ultima vittima È Assassino Trafficante D'Armi Carradine È stato identificato Come il responsabile Dell'omicidio Di Benjamin Parker Avvenuto un anno fa Alcuni New Yorkesi Che abbiamo intervistato Sono felici Che i criminali Violenti Vengano tolti Dalle strade Beh c'è qualcuno Che vuole buttare La spazzatura Faccia pure Dico io Ma la polizia Ma la polizia Avverte che il responsabile È una minaccia Per tutti Questo individuo È un pericoloso Psicopatico Commette atti Di estrema violenza E brutalità Lasciando la sua firma C-K Scritta con il sangue Le scene del crimine Sono così truci Che impressionano Anche gli agenti Veterani Per la firma E l'orribile natura Dei crimini Le autorità Hanno iniziato A parlare Di carnage killer Chiunque abbia informazioni Chiami subito La polizia Qui Whitney Chang Per il Daily Bugle News Network Orribile Orribile Ma almeno è finita L'uomo che ci ha portato via Ben Non farà più del male A nessuno La nostra vita La nostra vita Può continuare Che bello Peter Che cos'hai? Allora Sono un cattiva persona No Ti senti meglio No È sbagliato Essere felice Che sia morto Siamo in realtà Siamo in realtà Sono felice Che sia morto Ah sei felice Sbagliato So che è sbagliato Sei contento che un uomo malvagio Non possa più nuocere È diverso Sei felice che sia stata fatta giustizia Non c'è niente di male Lo so È che Io In fondo volevi farti giustizia da solo Sì Non è quello che Ben avrebbe voluto Voleva che lavorassi duro Che ti diplomassi Voleva che andassi al college E l'hai fatto Ovunque sia È fiero di te E anch'io Un po' di conversazione No No Allora Allora Ti senti meglio? Mio marito è morto Questo dolore non se ne andrà Hai detto che forse Hai detto che forse L'avremmo Superato Sì Ora che non ci tormentiamo più Con quelle domande Dov'è? Perché non lo prendono? Ora possiamo guardare avanti Ma non è come Essere felici Saremo di nuovo felici Te lo prometto Ho desiderato il peggior destino Per questo Keradin Davvero È comprensibile Ha ucciso tuo zio Sì Ma Peter Parker È già un male che ti senta in colpa per Ben Non ti tormentare anche per questo Dovrebbe essere colpa tua L'hai ucciso tu No Era un criminale Frequentava pessime compagnie Non avevi nessuna voce in capitolo Cosa Cosa altro potevi fare? Perché si sente in colpa Perché È stato più lungo Hai sentito Whitney Chang Hai sentito Whitney Chang Alcuni sono grati a Carnage Killer Io credo di capirli Questo non vuol dire che lo approvi Non sei contento che Carnage sia in giro a uccidere, no? Vuoi che lo sbattano in galera, giusto? Sì Sì Certo Sì Certo Sì E lo faranno Sia May Alzi il volume Siamo stati informati di una situazione con ostaggi alla Oscar E gli uomini armati tengono sotto tiro alcuni impiegati Oh no Le riprese di sicurezza hanno identificato il capo dell'operazione come Herman Schultz Schultz? Cosa? Lavoro ancora all'Oscol In ufficio quest'ora? No, ma meglio controllare È una buona idea Ho sempre pensato che non dovevate lasciarvi Non aspettarmi alzata Non aspettarmi alzata Lo faccio sempre Cacca, ride No, 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 no Che dici? Che dici? Io non vado di qua Io sono Trustless, quindi esco dalla finestra Tec Ma mia Ascolta Ecco qua Con la mia fighezza esco Oh yeah Sono uscita dalla finestra Come il vero Spider-Man O Porn Sempre la stessa cosa Dai Oh mio Dio caricamenti Molto vuoi caricamenti Sempre caricamenti Perché caricamenti? Vanno scherzo caricamenti Ma ci sono lo stesso i caricamenti Ride alla Oscorp Lo voglio finire sto gioco Non mi interessa niente È già un anno che questo canale è aperto E voi È colpa mia Se Schulz è scappato Se fa male a qualcuno No No Non questa volta No, questa volta non fa niente a nessuno Comunque È un anno Che sto qua in questo canale Che sono youtuber E ancora non ho finito neanche una serie La cosa bella è questa Allora ragazzi io faccio una serie E poi non la continuo più E poi la continuo dopo anni e anni E non finiscono mai Alcune poi non le faccio più Quindi A posti siamo Arrabbi cari Ok 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 Devo arrivare lassù Oh cavolo Quella gente avrà bisogno di aiuto Dai No No Dove sono? Dove sono? Ah che bella tentatura Russi Mi aspettavo gli uomini di Schulz E a di che no Dai Spada a tutti Ammazza a tutti Non sono finiti No Che sono finiti Non sono finiti no Sarò un criminale hai detto Denaro, gloria e potere hai detto Allora Ti avevo pensato? No Poi le A volte va tutto come dovrebbe Eh Devo muovere i detrici per entrare Devo togliere questi detriti Le torte Ma che panni ancora Che panni Sto volendo Schifo Banno Comunque ragazzi ora Per chi non lo sa Uso Sony Vegas Per montare i video Per fare tutta la patata No Buttati così Vai Yes Buttati Vale da guardia ai condotti C'è problema C'è blan Ci sta Ci sta Blan Pecca sempre i lavori sporchi Solo perché non sono grasso come gli altri La festa è finita Dopo questa notte ho chiuso Olè Sono sempre così sorpresi E' certo Di vedere Sono sempre sorpresi Ah la cosa bella è questa Che si può manomettere le cose Ma è una figata Le ventole Questo gioco è stato sempre una figata E sarà sempre una figata Anche se è vecchio Sembra che è del 2015 Non posso addentrarmi Non posso addentrarmi di più Nei condotti Come ti chiami? Max Max Dillon Ok Max Scelta facile O ci dici dove trovare le armi O muori Io sono un ingegnere elettrico Non ho accesso a quelle zone Allora non vorrei essere nei tuoi panni Perché Si ucciderà una cosa brutta A te Ti ho allargato le narici con le ragnatele Così non russi Oh che ridere Zitti Zitti ragazzi che qua ci vedono Sono troppo Sono troppo intelligenti Loro Ma Ma si dice troppo eh Si scalati dai Ciao Vai mettiti qua Non ci dobbiamo far vedere da nessuno proprio Che poi da qua non puoi Facciamo pure a te Vediamo Chi c'è poi? No voglio parlare tutto stelto perché Continuano a parlare di un'arma Scommetto la ragnatela che Schultz è diretto verso la divisione progetti speciali Olè Fatto Tu sei il signor Spiderman Solo Spiderman Il signor Spiderman era mio padre Come ti chiami? Max Max Dillon Ricerca e sviluppo Bene Max Mi serve il tuo aiuto Sarai i miei occhi e le mie orecchie Davvero? Sì Cioè Sì Non ti deluderò Bene Porta fuori gli ostaggi dalla scala C Tutto chiaro? Ti ringrazio per l'aiuto Socio Alla fine mi ricordo del film Mi ricordo che alla fine lui era il cattivo del gioco Perché io ho visto il film Hanno danneggiato il nucleo e si sta sovraccaricando Oiaia E poi? Salta la luce? No L'edificio è alimentato da un reattore a fissione sperimentale No Salta il mondo Si esplode Moriamo tutti Ottimo Dov'è? Con le porte di sicurezza chiuse c'è una sola via Tu sei trasportato in nuovo con i container di refrigerante verso il nucleo? Puoi attaccarti alle cose, no? Eh grazie Ok Finalmente Ora a spaccare i culi è bello Fare il Spider-Man Che sto dicendo? Mamma mia Ah mi devo dire che cominciamo a fare subito Outlast Perché non l'ho continuato Non l'ho continuato e lo voglio fare infatti che lo farò Max aveva ragione, è in urno Se esplode lascerà un bel cratere nel cuore di là No, ma proprio piccolo Devo trovare i refrigeranti Ma, ma proprio piccolo Come si riesce? Un siciliano Napoletano Allora è qua Non c'è, che bello Allora è qua Ecco, da qui posso rilasciare i refrigeranti Oh Tiro all'alto Devo arrivare i refrigeranti in fretta In fretta, in fretta, in fretta In fretta e furia In fretta e furia Allora è qua Allora è qua E' l'assenza di entrata A tassura, voce e sicurezza Via 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 I dannati russi Spazzateli via I russi porco russo Cosa stanno facendo Al riparo Prendeteli E qua ci sono io Sono già pericolosi per conto loro Non possono avere anche le armi della Oscar Non posso prenderli tutti insieme E devo scontirli un vanno Ok E allora Era per calarsi Ciao ciao Vabbè anche la cosa Bella è che loro non stanno Contro di me Si stanno anche contro di me Però stanno anche contro i russi E contro i russi contro quelli Quindi Non dovrebbero dare molto peso a me Quindi Mi sa che Più facile Ma Ma proprio poco Ciao pure a te Ciao a tutti Ok stanno per morire tutti Tanto lo so che Perché gli ammiazio tutti Oh Maurizio Costanzo Gli uccide Maurizio Costanzo Perché come Maurizio Costanzo Che c'entra Maurizio Costanzo quando faccio Vai 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 Pure te Mori No Comunisti Percatevi questo Comunisti Communisti Beccatevi questa bello vedo a matare a quello qui devo calarmi per ucciderlo ciao risali ora andiamo qua si sto facendo tutto stesso perchè mannoia a morire 3 miliardi di volte 3 miliardi qualcosa schifo sono un cretino sono un cretino insomma lo potete dire che sono un cretino perchè lo sono aspetta ok ok dai non ci stai tu però non ti ho già affrontato oi se lo che non hai ok si inizio a pensare di avere un futuro cosa da comunista tu da comunista sono così carini quando dormono città così carini quando dormono nessun animale è stato ferito i cattivi invece io mi sono sempre chiesto ma io non posso prendere un'epistola spara a tutti così almeno tipo rambo no o meglio cosa è successo ehhh andiamo qua balletta ehhh va bene io vieni qua buonanotte mi ha visto mi hanno visto mi hanno visto ragazzi eccolo ehi è successo uccidete il ragno uccidete il ragno uccideteli tutti qua aiuto lo vedo vattene spider-man e saremo noi a risolvere il tuo problema ok spiderman non contro niente è solo un altro personale si ok ora vi uccido tutti ok sto facendo il bullo ok sto facendo il bullo c'è fino all'asse sui bater direi che ci siamo capiti olè uccidiamo tutti mi interessa niente boom ero carico ehi criminale privo di sensi ero carico o cosa ok facciamo qua eh novità 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 ok ma anche una sola arma sarebbe troppo c'è novità 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 eh eh ci sono gli uccidi che rompono ma questi sono i cali ok me ne manca un altro ok aspettate che faccio il giro così la vedi persone stealth non lo dimenticherò non lo scontro non lo scontro non lo scontro e boom olè e ora mi prenditi un attimo per pensare ai tuoi errori ti spiezo in due e qua oh oh gamba mia che ti spaccola vai ok fatto no Herman sei tornato allora hai visto i miei annunci credevi che sparissi per lasciare New York ai mostri come te no mi serviva un'arma adatta e ora ce l'ho ti presento l'ultimo grido della ricerca sismica o come mi piace chiamarlo shoké 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 dai non posso lavorare così non posso lavorare così non posso lavorare così non puzza il mio no stai male stanzi cari la stai usando come un'arma? che noia se sono morto che parli ancora si è un gioco bello però che lui parla mentre è morto vabbè va è sempre un gioco ok no ma noia vedete tutto ti direi che hai altre possibilità nella vita ma non ne sei così sicuro dai uccidilo 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 ah ah i frullati aia bocco schifo muore muore muori sì però non lo scontro sono prenderanno la mia città sento quello che chiama la sua arma shocker non posso lavorare così dai alza di storm dai droga ah di sapere quello che fai dai muori non ti ho già affrontato o è solo che non hai nessuna mossa originale dai però dai dai mi prendi in giro ok aspetta che mi curo ok una scossa a colazione una scossa per pranzo e una bella vota in testa per cena che bello che vita non puoi mettermi al fresco non sarò al sicuro dai russi forse puoi accordarti col procuratore Harper per i domiciliari se lo aiuti a fermare la guerra tra gang un sacco di innocenti stanno morendo non posso è fuori dal mio controllo tutte le gang della città sono in guerra tutti hanno paura di tutti allora sei qui per un potenziamento messaggio sì esatto le armi non bastano più tutti vogliono il loro asso nella manica la potenza di fuoco con cui contrastare qualunque esercito e a nessuno importa se ci vanno di mezzo degli innocenti è per questo che le chiamano cattivi i russi sono arrivati praticamente insieme a te lo so uno dei miei deve aver fatto la spia ora che il tuo futuro è diciamo limitato cosa faranno loro? si armeranno elimineranno quel che resta dei miei uomini e non si fermeranno non hanno pietà vedrai quando avranno finito sentirai la mancanza del vecchio Herman Schultz ok andiamo con lei di cosa avete paura voi che siete dei duri? di Carnage Killer sta uccidendo i miei i russi i ragazzi di Hammerhead i uomini di Mister Negativo tutti pensano che siano gli altri ad assondarlo inizio a pensare che sia una specie di mostro come quel vecchio lucertolone o come il tizio con i robot quindi finché è a piede libero a uccidere la guerra continua è peggiore a meno che tu non voglia un'altra lezione dirai alla polizia quello che sai della guerra tra gang ok ma non servirà la città è piena di furboni da grilletto facile che hanno paura di essere uccisi da Carnage Killer è come un incendio che continuerà a diffondersi ti ho preso in giro per questi affari ma non sono male potessi usare questa energia cinetica sulle mie ragnatele chi è il ladro adesso? eh? eh ovviamente tu tan 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 posso farlo? si? ah ok l'ho fatto ma che cosa serviva praticamente? conoscete la Oscorp ma non conoscete me sono Harry Osborne quando mio padre è morto non ho ereditato solo un business ma anche un'istituzione di New York ma ultimamente sia la Oscorp sia la città sono state vittime dei criminali è mio piacere annunciare un'alleanza con un uomo che come me è recentemente tornato nella sua città natale e vuole aiutarla Wilson Fisk Wilson Fisk New York mi ha reso l'uomo che sono ora voglio sdebitarmi ho avuto il privilegio di ricostruire questa città dopo le recenti crisi ma era soltanto l'inizio permettetemi di presentarvi la task force avanzata la polizia sta facendo un buon lavoro con risorse limitate ma quando deve affrontare minacce fuori dal comune le risorse non bastano invece di gravare il carico fiscale dei contribuenti io e Fisk abbiamo deciso di finanziare personalmente la task force giustizieri come Spider-Man peggiorano soltanto la situazione questa è la nostra città e ce la riprenderemo insieme sono sempre intenzionato a comprare la Oscorp giovani e la risposta è sempre no va bene aspetterò che tu muoia della stessa malattia che ha ucciso tuo padre ah perchè questo quatticione vuole la Oscorp quindi quando lui morirà praticamente quello che finirà la Oscorp che cosa è triste vabbè vabbè io so già tutto perchè ho visto il film quindi non è che so del gioco perchè il gioco è diversissimo non è la stessa cosa precisa cioè è la stessa si può dire la stessa cosa del film però è un po' più diversa ora aspettiamo il caricamento e possiamo chiudere qua il video perchè abbiamo fatto un sacchissimo di cosissime ok non so che cosa dico però le dico le cose quando le dico ehm dai mi stavo dicendo non lo so se ve l'ho detto ma ho avuto a Sony Vegas ok ok a tutto il personale della Task Force procedete con la fase 1 del piano di contenimento ripeto date via alla fase 1 del piano di contenimento ok non mi interessa ah così sono le missioni secondarie se vorremmo fare un cazzeggio stavo dicendo per fare un cazzeggio allora ragazzi vedete di vedere qualunque se vi è piaciuto mettete un commento iscrivetevi spazzate e ci vediamo stavo stavo negativi grazie 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 grazie